Nonostante sia di fatto vietato, molti automobilisti transitano e spesso parcheggiano anche per diverse ore. Via Pirgotele a Casalpalocco è una strada chiusa al traffico per la presenza dell'istituto comprensivo Tuglia Zevi, eppure sono in tanti ad ignorare il divieto e il richiamo del senso civico. Parcheggiano costantemente all'interno di una via che ha vietato l'accesso da una parte e dall'altra e permangono qui tutta la giornata e fanno manovre anche pericolose durante l'orario di entrata e uscita dei ragazzi. Ecco, peraltro l'accesso è vietato e c'è un motivo per cui è vietato. È una via pedonale proprio perché per motivi di sicurezza per i nostri figli. Gli stessi genitori molte volte sono a parcheggiare, quindi andrebbero educati da questo punto di vista. Voi avete segnalato il fenomeno alla polizia locale? Io personalmente, anche la scuola, credo, ho mandato una mail alla presida affinché si facesse carico di gestire come istituzione questo problema che è annoso e costante, peraltro, e alla polizia locale anche una mail e delle segnalazioni. Per ora senza riscontro? Senza esito. Ogni tanto si vedono delle macchine parcheggiate, in effetti, ma sono di solito di passaggio a quanto vedo. Devo dire che dall'altro lato ho visto molte volte fare manovre senza controllare troppo se ci fossero bambini dietro la macchina o cose del genere anche perché comunque all'orario di uscita ci sono tanti bambini che si spostano ed è se uno parcheggia male difficile tenere tutto sotto controllo quindi sarebbe meglio se mettessero dei piloni o qualche cosa che bloccasse direttamente il passaggio in modo da salvaguardare senza problemi l'incolumità dei bambini. Lei avverte se ha un problema il fatto che si parcheggino qui, su questa strada? Quando non vengono davanti ai cancelli, no, assolutamente no. Ogni tanto qualcuno parcheggia in fondo, ma perché qui i parcheggi sono abbastanza pieni e quindi parcheggia non là in fondo. Voi auto che passano ne avete viste? Sì, ne abbiamo viste, non spesso ma capita e anche a velocità sostenuta quindi secondo me dovrebbero mettere dei cartelli che sono un po' più evidenti o dei dissuasori, non lo so, comunque è pericoloso perché spesso i bambini giocano qui pensando che non passa nessuna macchina, si buttano nella strada quindi per me è un problema. E questo immagino abbia provocato anche delle liti tra genitori e automobilisti? Sì, a volte sì, quando passano le macchine, almeno quando siamo presenti qui noi lo comunichiamo agli autisti che non si può passare. E il dibattito si è presto trasferito sui social, il problema del parcheggio ce l'hanno tutti si sfogano alcuni genitori, ma non può essere risolto entrando nella strada chiusa lasciando la macchina sui prati, sulle strisce in doppia fila, basta fare qualche metro a piedi.